ma ha funzionato brava cristina si ma questo non è il messico però mi senti Diego si ti sento ma non ti vedo dove sei mi sa che hai sbagliato Diego io ho impostato tutto giusto si ma cosa faccio io adesso qui Diego non arrabbiarti la vita è bellissima fatto no Cristina no prendi la terza rotonda a sinistra adesso mi vieni a prendere hai capito mi vieni a prendere tu Diego non arrabbiarti fa male il fibroblasti ma cosa faccio stai sotto le colonne e poi prendi la quarta destra Cristina te lo giuro è l'ultima volta hai capito? va bene ti accontento ci vediamo lì a a a a a a Grazie a tutti.